Eccoci qua, siamo nel Locarnese, posti fantastici con Paolo e oggi ci facciamo la ciclabile in Valle Maggia fino al paese di Brontallo e poi lì decideremo un pochino da farsi. Grazie a tutti. Allee! Allee! Eccoci arrivati a Brontallo in Valla Avizzara. Praticamente da Bignasco si sale verso i laghi di Naret e a un certo punto si svolta e si arriva in questo paesino famoso per i suoi rustici. Bellissimi! 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 Dov'è? Questo qua? Quello che ha vinto con il cioccolato e questo? Ecco questo poco più di circa 85 chilometri circa la metà del tracciato e susterrato quindi ideale per lei gravel la cosa in più che mi porto a casa oggi cos'è qua dietro non so se si vede nello zaino ci sono due panettoni del maestro poncini quindi il campione del mondo ciao ciao Grazie